Una mucca dispersa sopra frazione Forzo, Ronco Canavese, è stata ritrovata grazie alla segnalazione di alcuni escursionisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cornier, l'elicottero Drago 66, con i staff, il soccorso alpino a stazione di Ronco e il guardia parco del Parco Nazionale Gran Paradiso. La mucca è stata recuperata dai soccorritori, che l'hanno verricellata in salvo e restituita ai proprietari. Grazie a tutti.